Il cittadino può inviare comunicazioni alla Polizia Municipale in maniera diretta, quindi superando le distanze territoriali, superando le difficoltà burocratiche a volte si trova e semplicemente indicando la località della segnalazione, una breve descrizione e la possibilità di realizzare una fotografia, che tra l'altro è una fotografia geolocalizzata, quindi arriverà all'ufficio con le coordinate geografiche, quindi sarà per noi molto più facile raggiungerla, più veloce, più facile raggiungerla. Informazioni, segnalazioni, richieste di intervento, tutto direttamente dallo smartphone, grazie ad una app che si chiama Sicurezza in Casentino. Sostanzialmente si scorciano le distanze tra cittadini e Polizia Municipale. Un progetto finanziato dalla Regione Toscana e portato avanti grazie alla collaborazione dell'Unione Montana dei Comuni del Casentino. L'applicazione rientra in un progetto effettivamente più ampio, che è quello della sicurezza in Casentino, un progetto finanziato per il 70% dalla Regione Toscana e che grazie anche alle amministrazioni, all'ufficio di Polizia Municipale, ha dato la possibilità di installare sul nostro territorio 18 telecamere. Il cittadino può scaricare gratuitamente sul suo smartphone la app direttamente da Google Play e ricevere così anche le informazioni fondamentali che in questo caso invia la Polizia Municipale. Da aggiornamenti al codice della strada, vedo qui le novità della revisione dei veicoli da maggio 2018, ma anche informazioni legate alla chiusura delle strade in occasione di manifestazioni come nell'occasione della prossima domenica ci sarà la chiusura dell'SR 71 in località Rassina per il Carnevale dei Ragazzi. La differenza della notifica invece che avviene tramite un segnale acustico, quindi un avviso al cittadino per un'emergenza, un'urgenza, una chiusura improvvisa ad esempio di una strada dovuta a un incidente stradale o per un altro evento e quindi viene informato attraverso un segnale acustico, un avviso e invita il cittadino ad aprire l'applicazione e a leggerne il contenuto. Quali sono i comuni che sono inseriti in questa app? Sì, sono gli otto comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, quindi Montemignaio, Castel San Nicolo, Poppi, Castelfo Cognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Talla e Ortignano Raggiolo.